L'ESA, le squadre di assalto di Hitler, note anche come camice brune, stavano tenendo sempre più successo in Germania. Erano l'immagine della gioventù, del coraggio, dell'ordine. In realtà erano come le altrettanto famose squadracce fasciste da cui Hitler aveva preso ispirazione. Nel 1933 il partito di Hitler vince le elezioni, arrivando addirittura al 44% delle preferenze. L'allora presidente della Repubblica, Hindenburg, nominò allora Hitler cancelliere. Cancelliere è un titolo che corrisponde al nostro presidente del Consiglio. Una volta insediato al governo, Hitler per prima cosa perseguitò i comunisti, molti dei quali vennero racchiusi nei campi di concentramento, nei lager. Poi emanò delle leggi eccezionali che avevano lo scopo di limitare o addirittura cancellare i diritti civili presenti nella Costituzione. Per prima cosa abolì i sindacati, che furono sostituiti dal fronte del lavoro, una sorta di sindacato unico. Poi stabilì che il partito nazista era l'unico partito e controllò con una censura feroce la libertà di espressione. Vennero poi aggiunti, creati, due altri corpi militari. L'SS, che avevano come compito principale quello di proteggere Hitler, e la Gestapo, in pratica una polizia segreta. La Gestapo era infiltrata in tutti gli ambienti della società, uffici, fabbriche, scuole, ovviamente in incognito, e aveva il compito di individuare e arrestare chi si opponeva al regime. I colpevoli, veri o presunti che fossero perché era sufficiente una denuncia, non c'era bisogno di processi, di prove, quindi i colpevoli, ritenuti tale, venivano deportati poi nei campi di concentramento. Il capo della Gestapo era Himmler. La Gestapo poteva poi fare qualsiasi cosa, non doveva seguire delle regole, perché c'era una legge creata apposta che stabiliva che non potessero essere giudicate le loro azioni da un tribunale, da un giudice. Queste organizzazioni, oltretutto, obbedivano direttamente a Hitler, che adesso si faceva chiamare Führer, cioè guida, comandante, un po' come il duce di Mussolini. E nel giro di qualche mese queste organizzazioni uccisero o mandarono nei lager i suoi oppositori. Nel frattempo, però, le SA, le camicie brune, erano diventate troppo violente e i loro capi non erano più in sintonia con le direttive di Hitler. Allora i capi dell'SS diffusero la voce che le camicie brune stessero preparando un colpo di Stato per eliminare il Führer. Hitler decise di risolvere la questione una volta per tutte. Il 30 giugno del 1934 invitò circa 200 tra i capi più importanti dell'SA in un albergo, in un paesino della Baviera, e quella notte furono, su suo ordine, arrestati e giustiziati tutti i più importanti capi dell'SA. Le esecuzioni poi proseguirono nel resto delle città tedesche anche nei giorni successivi. Questo episodio è passato alla storia come la notte dei lunghi coltelli. In pratica la Repubblica di Weimar non esisteva più. Morto il presidente Indenburg, Hitler assunse anche quel ruolo diventando capo assoluto della Germania. Nasceva così il Terzo Reich. Hitler proponeva un modello di società duplice, da una parte basato sulla famiglia tradizionale, la donna sottomessa nel ruolo di moglie, di madre. Nello stesso tempo però proponeva i valori dell'azione, della guerra, in pratica del suo progetto di costruire uno stato forte e invincibile. I discorsi del Führer incantarono la nazione tedesca, ancor più quando riuscì ad ottenere dagli stati vincitori della guerra la sospensione del pagamento dei danni di guerra, come era stato stabilito nel Trattato di Versailles. Non solo. Questo convinse le banche estere a prestare soldi al paese. Un paese che adesso era diventato ottimista, ordinato, senza scontri sociali. Si misero in cantiere molte opere pubbliche. Le fabbriche ripresero a lavorare a pieno ritmo, al punto che sparì la disoccupazione. Il livello sociale di vita migliorò. È vero che i salari degli operai erano bassi, ma tutte le famiglie avevano almeno una persona che lavorava. Venne garantita l'assistenza ospedaliera gratuita e i trasporti e le scuole costavano poco e quindi tutti potevano accedere agli studi. In questo modo, Hitler ottenne il consenso di tutte le classi della società, dagli imprenditori agli operai. Gli altri stati europei, guardando quello che stava compiendo la Germania, parlavano di miracolo tedesco. Questa però era la facciata da mostrare al mondo. In realtà Hitler stava preparando il paese alla guerra. Intanto nel 1933 sappiamo già che aveva varato le prime leggi razziali per preservare la purezza del popolo tedesco, con le quali erano stati espulsi gli ebrei da tutti gli impieghi statali, dalla vocatura, dalla medicina. Furono anche sospese le cure per chi era diversamente abile, con lo scopo di accelerarne la morte. Nel 1935 vennero pubblicate le leggi di Norimberga. Queste leggi proibivano i matrimoni tra ebrei e non ebrei. Inoltre tutti quelli che venivano classificati come ebrei non potevano essere cittadini tedeschi e quindi si videro progressivamente togliere anche tutti i diritti civili. Oltretutto molti tedeschi peggiorarono spontaneamente la situazione emarginando le minoranze. Non entravano nei negozi ebraici, non assumevano personale ebraico. E le altre nazioni? Ma le altre nazioni sottovalutarono la gravità di queste decisioni che non furono ritenute preoccupanti. Solo le famiglie ebree più ricche riuscirono a lasciare la Germania perché per farlo bisognava pagare moltissimi soldi e quindi la maggior parte fu costretta a rimanere in quella che in quegli anni continuavano a chiamare la loro patria. Il momento in cui finalmente i piani di Hitler furono chiari per tutti fu il 1938. Il 7 novembre del 1938 un giovane ebreo polacco aveva compiuto un attentato contro un diplomatico tedesco von Rath a Parigi. E il diplomatico morirà due giorni dopo proprio in seguito alle ferite d'arma da fuoco che aveva subito. Questa notizia diventò il pretesto per scatenare una violenta rappresaglia contro gli ebrei. La stampa tedesca abilmente manovrata ovviamente dal regime fece dei grandi titoli sulle prime pagine dei giornali e la notizia fu diffusa come l'ebreo che uccide una persona importante tedesca. La rappresaglia fu scatenata immediatamente e passò alla storia come la notte dei cristalli perché nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1938 vennero distrutti i negozi ebraici vennero incendiate le sinagoge molti ebrei furono uccisi e 30.000 furono deportati nei campi di concentramento. Nel frattempo altre categorie di persone furono coinvolte nel progetto di eliminazione i zingari gli omosessuali le prostitute i senza tetto i malati di mente i disabili nel giro di un anno e mezzo furono uccise 70.000 persone con disabilità perché il regime nazista le considerava letteralmente vite che non meritavano di essere vissute. Insomma fu attuato un grande progetto di eutanasia di massa. Il bilancio finale fu di 250.000 persone uccise tra cui 5.000 bambini. Questo è un volantino di propaganda. La didascalia in tedesco dice il costo di un malato ereditario fino a quando non compie 60 anni è di 50.000 marchi. In pratica il volantino rappresenta un tedesco che sta portando sulle spalle il peso del mantenimento di persone che non producono che non collaborano in nessun modo alla potenza della nazione e che quindi il regime si preoccuperà di far sparire.